Sei un illuso, che cosa ti fa pensare che li lascerò andare via? Io vi voglio eliminare tutti quanti! Oh no, Kineo! Sei così ridicolo, moscerino! Stai attento! Smettila, lasciano in pace, prese! Bye bye! Goku! Kineo! Tu... la pagherai... per il... per il male... che hai fatto! In posizione! A me ne ho penso anche Kineo! Che ne ho dovresti di farla finita? Io ne posso più di te, Saiyan! Tu sei il famoso genio delle tartarucche! Ho provato a dito tu che sei, bambino! Un suo allievo per il maestro, e certo mi evitiamo dopo! Kineo! Mio migliore amico! Mi ruba! Ma dai, non è in gioia! Mi sei mancato tanto! Lo sai che non ti ho ancora ringraziato te, grazie! Perché? Non ti ricordo, a sapere che avevo ucciso, tu mi hai vendicato! Mi ha i Kineo! E adesso tocca a te, Mo Giusetto! Non ti ricordo... St kirkò... UUUUUUUUU stupidale E questo? Posso sapere che cosa significa? Mi risulta che voi Saiyan vi trasformiate in enormi scimmioni. Cosa rappresenta quella pagliacciata? Vai bene a cominciare a preoccuparti. Ma sì, certo! Adesso ho capito! E' accaduto esattamente ciò che Vegeta aveva preannunciato! Il mio paparillo si è trasformato nel leggendario Super Saiyan! Mi prendi in giro, non tu per me! Stai attento a fare lo spirito? Sai com'è difficile scherzare, Saiyan! Adesso basta! E' proprio sbaragato! Cosa? Saprai anche distruggere interi pianeti. Ma controdi? E' giunta la tua! Preparati! Mi spiace doverti contraddire! Ma tra poco sarò via battere te scimmione! Ti ricordo che non ho ancora raggiunto il 100% della mia forza! E lo sai che cosa significa questo, eh? Che io diventerò praticamente invincibile! Ho capito, Saiyan! Perché finora non l'hai fatto! Alla fine ci sono arrivati! Quando sfrutti tutta l'energia il tuo corpo rischia di non sopportarlo! E ora comincia a dire le tue ultime preghiere perché è giunta la tua ora! Allora che cosa stai facendo, Gomo? Ehi, dico a te, riesci a sentirmi, Goku? Cosa aspetti? E' questo il momento per attaccarlo! Freezer si sta concentrando per raccogliere le ultime energie! Devi colpirlo subito! Ma insomma, è possibile che tu non capisca! Allora, mi senti o no? Sto parlando con te, Goku! La sento forte e chiaro, Recaio! Ah, davvero? Sì, la sento benissimo! Ma questa potrebbe essere la mia unica preziosa occasione per vedere il combattente più forte dalla galassia al massimo della sua potenza! E non voglio perderla! Figliolo, non credo che tu ti renda conto delle conseguenze del tuo atteggiamento! Devi colpirlo subito! Dai, falla finita! Ho già perso abbastanza tempo con te! Che... che cosa hai detto? E' inutile, Frizer! Non puoi nulla contro di me! Sono pronto! Hai davanti a te il vero grande Freezer! Ah, lo sento! E' la fine! Non ci rimane molto tempo, quindi vediamo di farla finita! Prima di eliminarti, voglio farti un complimento, Super Saiyan! Sei davvero straordinario! Decisamente il guerriero più forte della galassia! Beh, se non ci fossi in giro io, naturalmente! E adesso? È davvero finita per te! Questo lo vedremo! Farai la fine del tuo amico terrestre! Non avresti dovuto farmelo tornare in me! DOKU! Mi hai fatto arrabbiare! KINI! DI MENTICHERO! È giunta la tua ora! Così? Tanto prima porti col teo! E per te sarà la fine! È inutile! Io dico che non ci riesci! Se puoi starne certo! Non ti lascerò vincere questa partita! Non hai scampo! Non hai proprio pa- Non ti lascerò vincere questa partita! Non hai scampo! E suonare! Basta così! Eh? Che cosa vuoi dire? Come sarebbe층ìvi? Basta così! Kelly 종iciotto! Che cosa sta succedendo? Insomma! Ti vuoi spiegare? Che cosa intendevi dire? In conseguenza del fatto che hai usato i pieni poteri, le tue energie si stanno lentamente esaurando. Ormai non ha più alcun senso continuare a combattere. Io mi ritengo più che soddisfatto. Il mio scopo era di farti abbassare la cresta. E ci sono riuscito, perché ora ti sei reso conto che c'è qualcuno più forte di te in questa galassia. E sai qual è il pello? Che si tratta proprio di un Saiyan! Non c'è più gusto combattere contro qualcuno che trema di paura. Resterà per sempre questo bel ricordo. Beh, io me ne torno a casa. Dovrei essere ancora in tempo, no? Ah, dimenticavo. Vedi di non dare più fastidio in giro. Non vorrei doverti dare un'altra lezione. Basta! Chiudi il becco! Le tue minacce non mi spaventano affatto! Ti chiuderò quella boccaggia! Stai convincendo me o te stesso? Ma chi ti crede di essere? Tu non sei nient'altro che un folle freezer! Era la tua ultima occasione e te la sei giocata! Non è più tempo! Un zonno molto il pianeta esploderà! Eh? Ti ho già detto che mi è passata la voglia di combattere contro di te. Mi hai deluso. Anche perché con la tua ultima arma hai ben poco speranza. Tra poco sarà tutto finito e di te non mi resterà che un brutto ricotto. Farai una fine miserabile. Svalirai insieme a questo pianeta! Sarai tu a fare una fine miserabile, Fritz. Perché volente o non volente verrai eliminato proprio da chi hai sempre disprezzato. Adesso massa, Ian! Vuoi distruggere il grande Fritz? Temo che ti sia montato un po' troppo la testa, biondino. Le tue minacce non mi fanno affatto pure, Saiyan. So benissimo che stai bleffando come al solito, ma con me non hai scampo! Ti ricordo che sono io il grande Fritz! Nessuno potrà mai sconfiggermi! Ma come ha fatto? Come hai ocato! Come hai ocato! Come hai ocato! Eh? Ne hai ancora fermozzo? Preparati! La fire carbonica! Sei un po' troppo la pia stancato! Sei un po' troppo la pia stancato! K.O. Adesso il nostro combattimento è veramente finito. Incredibile! Chi l'avrebbe mai detto? Alla fine sei riuscito a distruggerti con le tue stesse mani. Beh addio! Adesso io me ne torno a casa! Ti avevo avvertito che ti conveniva ritirarti dal gioco finché eri ancora in tempo! Ora scomparirai insieme a questo pianeta! Anzi on isla è lì! Ehi è per niente che capito! Grazie a tutti.